bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su brawl stars come vedete avete letto dal titolo farò un'altra box a me neanche se voi mi avete lasciato like ma io lo stesso lo farò comunque in questo video potremo andare a comprare anche i pass però farò un video a parte questo è proprio ma sono cambiate vabbè andiamo entrando qua 40 cose allora potremmo andare anche a comprare prendere anche gelindo però farò una live a parte quindi direi che non dobbiamo qualche cassetta perché ho visto che è uscito iris io già l'ho provato non sbagliato diamo questi punti a voglio dire di darli allora apriamo questa mega cassa ma prima lasciate like e faremo intanto una partita totalmente così a caso qua su sopravvivenza singolo con peri vabbè anche guardare la mappa niente tutto così totalmente a caso ok ragazzi dovevo uscire un momento dove io e la mia amica truccavamo mia sorella soltanto che per sbaglio l'ho cancellato va beh raga peccato io ve l'avevo anche promesso qualche mese fa ma ci è stato qualche problemino perché mia sorella in questi giorni che si voleva fare fare truccare ma vabbè raga il video era venuto anche molto bene vabbè non credo che lo potrei di fare ma piano piano con il tempo vediamo se potrei portare qualche qualcos'altro dai mica posso fare sempre un altro video dove mi truccono non ha senso soltanto che mi sta buggando brawl stars non capisco il perché questa mattina mi sono svegliato che brawl stars mi si buggava comunque ho partito dei scherzi e cantare ma la mente come degli scemi giochiamo però la live io mi sono scurito di nuovo mi zenne quella della live però non so se finisco perché non l'ho ancora provato andiamo a mettere anche la torretta qua sto cercando di scegliere il primo vabbè anche se arriva un quarto già possiamo andare ad aprire vabbè che l'apriamo lo stesso soltanto per per durare un pochino i video di più ma dove a me non mi danno soldi perché sia devo arrivare un dott'ediscritti sia non c'ho neanche la paypal collecata perché qua non c'ho l'età giusta per avere la paypal eh che già comunque dalla voce mi sente allora vabbè uccidiamo anzi moriamo mi sa che moriamo noi perché qua mi c'ho pedi questa è vita stiamo dando un po' di fastidio a tutti un po' a tutti eh prima di morire devi lasciare una torretta dormire da casa che vabbè andiamoci a prendere la mega cassa allora ah c'è lei anche l'evento qua dei soldi scusate perché sto sbattigliando scusate allora fa tre due io chiudo gli occhi uno apriamo no cinque oggetti rimasti niente vabbè più che si contro cassa piccola dai apriti che si aspetta un caricamento eh te pareva c'è in questi giorni non ho trovato niente raga allora uno due tre tre oggetti rimasti niente vabbè raga non ho trovato niente però prendiamo le gemme perché guardate qui su in alto cosa potremmo fare cioè andiamo andando in un negozio perché c'è uscito iris il gioco controllato stiamo tentando non sciopare niente io per sciopare l'epico però però no non lo scioppo perché potrei trovare solo un epico perché mi manca solo un epico quindi sprecerei solo germe germe scusate quindi direi di cambiare subito l'account fra tre due uno ok stiamo andando nell'account raga mi sono svegliata anche da un'oretta mi sembra un'oretta vediamo che ore sono sì da un'oretta quindi vabbè allora noi qua stiamo che carica perché aspettiamo due secondi ecco infatti sì il mio account quello là proprio là è raga praticamente è successo che si stacca la registruzione infatti ora io devo alzare per fare la registruzione ma è un bug andiamo a prendere un'altra cassetta dai questo è il mio account non è proprio quello là perché come vi ho detto se vedo un'aspirazione ecco qua ecco qua l'ita vai e prende la cassa questo e prende anche questo ecco direi che prendiamo anche un'altra cassetta dai per questo non lo prendiamo dai per questo non lo prendiamo ma direi raga che il video si potrebbe finire qua anzi no no c'è una perché non lo prendiamo e direi che dopo si potrebbe finire il video perché dopo questo io ho pubblico e le distruggono l'amore che è fatto infatti però adesso parlo perché non lo prendiamo perché non lo prendiamo ok ok e mobile ok 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 belj ok 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 un'ordine e questo è l'ordine l'uomo 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 sparo si dice che è un attimo di ossa non ho altro che c'è di breve dai va beh li veloci l'ordine vabbè se posso andare a prendere qualcosa di qua dai non possiamo prendere c'è un pochino di ritocco vabbè vedete che mi dici può finire qua e ci vediamo al prossimo se vi è piaciuto lasciate almeno un like io comunque loro vi porterò sempre i boxofling e ci vediamo al prossimo video ciao raga